Cosa prendi? Io prendo un caffè macchiato e un cornetto alla Nutella e tu? Io vorrei un cappuccino e non so se prendere un cornetto vuoto o un cornetto alla crema. Prendi un cornetto alla crema, è più buono. Buongiorno ragazze. Io vorrei un caffè macchiato e una cornetto alla Nutella. Io vorrei un cappuccino e... avete i cornetto vuoti? Sì, abbiamo cornetto vuoti, cornetto alla Nutella, alla crema oppure alla marmellata. Allora, prendo un cappuccino e un cornetto alla crema. Abbiamo un caffè macchiato, un cappuccino, un cornetto alla Nutella e un cornetto alla crema. Basta così? Ci puoi portare due bicchieri d'acqua? Naturale e un cassato? Naturale, grazie. Bene, lo riporto subito. Grazie. 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 Ciao, buongiorno. 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 Un caffè e un cornetto vuoto da portare via, grazie. Per me un succo e un cornetto alla Nutella, anche per me da portare via, grazie. Se lo vuoi il succo. All'arancia, grazie. 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 È bello il zucchero. Eccolo qui. Grazie. Grazie. È bello il zucchero. Succo. Grazie. Dai, su, bevi veloce che facciamo tardi a scuola. Succo. Eh, pazienza, c'è tempo. Perché non prendiamo un altro faronetto e lo mangiamo qui? No, no, facciamo tardi, andiamo. Ciao. 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 Ragazzi, che ci fate qui? Non venite a scuola? Sì, ma è presto. Presto? Sono le otto o meno un quarto. Cosa? Ok, ora vi diamo il conto e poi vi raggiungiamo. Vedrai che per le otto e dieci siamo in classe. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Io ho preso un succo e un cornetto alla Nutella. Un po' che è 50. Grazie. Io invece ho un caffè e un cornetto vuoto. Grazie. Io ho un cappuccino e un cornetto alla crema. Due e tre. Tutto insieme, grazie. Sì. Grazie. Arrivederci.